ciao a tutti benvenuti a questo momento di preghiera a questo momento di ascolto della parola del signore che viene a illuminare la nostra giornata la nostra vita in questo martedì della prima settimana di questo tempo di quaresima il vangelo di oggi è tratto da matteo capitolo 6 versetti dal 7 al 15 parleremo sulla vera preghiera così lo intitola la bibbia di gerusalemme cioè parleremo sul padre nostro allora chiediamo al signore che ci dia questa grazia della preghiera durante questo tempo dobbiamo chiederlo dobbiamo chiedere questo dono è un dono la preghiera è un dono perché la possibilità di parlare con dio nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli pregando non spregate parole come i pagani essi credono di venire ascoltati a forza di parole non siate dunque come loro perché il padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gli chiediate voi dunque pregate così padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga sia il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe il padre vostro che è nei cieli perdonarà perdonerà anche voi ma se voi non perdonerete agli altri neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe parola del signore lo da te o cristo devo dire che è la vera preghiera il padre nostro non possiamo perdere il tempo a inventarci tante preghiere una volta a me mi fa mi fa ridere sì perché inventiamo tante cose soprattutto noi preti no parole lunghe che ne so preghiere lunghe per mostrare la nostra capacità di di fare preghiere che ne so di parlare con dio di essere mediatori eccetera questa è la vera preghiera basta perché qui c'è tutto sappiamo che è la più importante di tutte le preghiere di tutte le preghiere perché perché esce direttamente dalla bocca di cristo nostro signore è lui che ci insegna infatti il vangelo inizia con questa assortazione non spregate sprecate parole come i pagani ecco sappiamo che in tutte le civiltà c'erano i sacerdoti che erano mediatori tra il popolo e dei e allora con tutta la tutta il chiacchieruccio pensavano di applicare dio applicare dio applicare dio cioè che dio faccia la tua volontà che faccia quello che dici te dove non c'è un rapporto tra un padre e un figlio ecco perché interessante che cristo inizia la la preghiera più importante del cristiano chiamando dio padre e ci invita a non essere come loro come i pagani perché perché dio conosce i nostri bisogni conosce quello che quello che ti serve quello che ti manca e questo è difficile da credere però pensiamo che possiamo controllare tutto noi tutto noi ci penso io ai figli ci penso io al marito ci penso io alla moglie ci penso io ai problemi della famiglia i soldi ci penso io io sono il centro di tutto e di tutto e di tutti l'ecocentrismo invece accettare che il signore conosce la tua vita conosce è tuo padre conosce il tuo cuore ecco perché è interessante come Matteo l'evangelista mette sette richieste no petizioni sappiamo che a Matteo gli piace il numero 7 perché perché parlerà sempre della pienezza il sette rappresenta la pienezza cioè la perfezione e quindi parlerà sette beatitudini metterà dirà anche il signore quante volte devo perdonare sette volte settanta volte sette insiste in questo anche le sete maledizioni siete guai a voi farisei ecco così tante altre cose con questo numero perché perché non non farò un'analisi di ogni di ogni richiesta perché no perché fondamentalmente è una preghiera che il signore ci insegna per stabilire questo rapporto con dio di consapevolezza di consapevolezza di umiltà di accettare questa realtà che dio è il nostro padre e che siamo chiamati a essere figli e la seconda parola ci indica che non solo dobbiamo amare il nostro padre non solo dobbiamo riconoscere dio come padre se noi dobbiamo riconoscere che non siamo da soli che perché lo chiamiamo padre nostro cioè c'è l'amore a dio nel momento in cui lo chiami padre e c'è l'amore al prossimo quando dici padre nostro il plurale indica una comunità indica che non solo siamo chiamati a essere figli sennò anche fratelli tra di noi perché questo è l'amore questo l'amore vero e allora finisce il vangelo con questo invito con questa esortazione al perdono ecco perché dicevo prima che questa era fondamentalmente una preghiera di umiltà di domanda di dire veramente signore tu lo sai tutto tu lo sai tutto io lo so che tu mi ami e mi inviti a con cristo chiedertelo riconoscerti come padre riconoscere il bisogno la la mia pochezza la mia debolezza che da solo non ci la faccio non abbandonarmi non abbandonarci alla tentazione e qual è questa tentazione la tentazione di non di la tentazione di dubitare dell'amore di dio mettere tutto sotto il dubbio sotto la nostra incredulità ecco allora questo invito al perdono in questo periodo in questo periodo di quaresima invito alla preghiera invito alla sincerità alla fede alla fede autentica chiediamo questo dono al signore va bene il signore vi benedica nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen invito anche a lasciarsi le vostre preghiere le vostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti se ci sono i fratelli che lasciano le loro preghiere piccole preghiere così di per chi dobbiamo pregare per la tua famiglia per te per la saluta di qualcuno eccetera siamo un popolo di preghiera proviamo a fare una comunità virtuale anche di preghiera dove preghiamo gli uni per gli altri coraggio e per questo anche vi invito a lasciarci un mi piace un like iscriverti al nostro canale l'evangelizzazione e attivare le notifiche così sarai sempre aggiornato di che cosa si pubblica nel canale ecco condividi anche il like di questo video un abbraccio a tutti una bellissima giornata